Sindaco Pavone, come vuole chiarire la polemica nata dopo i dati emersi dalla CNA? Guardi, io assolutamente non ho nessuna intenzione di fare polemica con nessuna. A me piacciono le cose che poi sono dimostrate, le cose oggettive. Ho letto questa fantomatica, diciamo, graduatoria in cui la città di Roseto sarebbe l'ultimo posto per quanto riguarda la tassazione e le imprese. Allora, premesso che le imprese, ripeto, pagano sostanzialmente imposte allo Stato, l'IRES, l'IRAP, l'IRPEF, sono tutte imposte statali e che quindi io vorrei conoscere nel dettaglio quali sono gli elementi dei tributi o delle imposte locali che hanno contribuito a redigere questa graduatoria. Premesso che le imposte dello Stato sono uguali in tutti i comuni d'Italia. Per quanto riguarda, ripeto, quelli comunali, vorrei conoscere dalla CNA i dati nel dettaglio di quali sono le imposte e i tributi comunali che hanno inciso e che sono stati inseriti in questo elenco e il confronto con gli altri comuni con cui Roseto è stato confrontato. Noi non abbiamo incrementato nessun tributo di servizio a domanda individuale oppure altri tributi comunali all'infuori dell'IMU che è stata sostituita, l'IMU è entrata in vigore al posto dell'ICI qualche anno fa e che Roseto è al 10,6 per mille che quindi è il massimo stabilito dalla legge come lo è in tanti altri comuni italiani. Per quanto riguarda le altre imposte non so quali appunto, come si fa a calcolare per esempio sulla Tariche o l'Ax Tarsu, poiché le imprese pagano questa imposta secondo la tipologia di attività che fa quindi non è uguale per tutte le imprese. Quindi sono curioso di sapere, di conoscere come è stato redatto questa graduatoria nel dettaglio per ogni singola imposta locale, nazionale, ogni tributo comunale, il confronto con gli altri comuni e solo in quel momento allora sarei in grado di confrontarmi e di poter ragionare su questi dati. Ecco io aspetto questo, se la CNA ha questi dati, li faccia uscire, ci rimandi, faremo un confronto pubblico, televisivo, in piazza dove si vuole e ci confronteremo su questi argomenti. Diffido e invito i cittadini a diffidare di chi ha le ricette facili.